Eric Laforge, siamo qui a presentare i nuovi veicoli commerciali marchiati Fiat che fanno capo ora Stellantis, ma attenzione i veicoli commerciali da una parte di Fiat una volta di Lancia, poi c'erano anche i monovolume ricordiamolo, poi di Peugeot, poi Citroën facevano capo alla vecchia joint venture tra PSA e prima Fiat e poi FCA quindi siamo qui a parlare di qualcosa che si sta sviluppando continuamente ma che risale a tanti anni fa, al 1978 infatti nel 1978 fu siglato l'accordo tra PSA e Fiat Auto all'epoca nel 1981 il primo prodotto è stato messo sulla strada il Ducato, assolutamente poi è stato un percorso lungo, più di 40 anni di partnership con altri bambini che sono arrivati dopo e in particolare Scudo, Scudo, Ulisse, prodotti nello stabilimento di Valenciennes che si chiama Sevel Nord, abbiamo Sevel Sud per Ducato, Jumper Boxer Sevel Nord per Scudo, Ulisse e poi anche nel 2007 seguiti da Fiorino possiamo anche dire che questa alleanza negli anni 70, fine 70, inizio 80 sono state le fondamenta per creare Stilantis ed ecco i risultati ma intanto anche i veicoli commerciali evolvono per quanto concede le motorizzazioni e davanti alla parola Ulisse, a proposito, grande ritorno di Ulisse, una vecchia gloria di Fiat e davanti a Scudo è stata posta una E, ma anche a Ducato ricordiamoci che esiste il Ducato elettrico quindi il veicolo commerciale che è importantissimo per il cosiddetto ultimo miglio la parte finale per il trasporto delle merci nelle città che deve essere percorsa a zero emissioni Allora, il mercato degli LCV elettrificati è ancora all'inizio l'anno scorso meno di 4% degli LCV in Europa immatricolati erano elettrici ma noi vediamo un trend di crescita, forte crescita e alla fine della decade in corso sicuramente la maggior parte degli LCV saranno elettrificati è importante arrivare tra i primi noi abbiamo lanciato l'anno scorso l'Educato adesso l'Escudo quindi è entro la fine di quest'anno 2022 tutta la gamma Fiat Professional avrà un veicolo su ogni segmento che verrà elettrificato questo risponde a una domanda sempre più grande delle aziende che fanno il Last My Delivery come dicevi perché questo consente un accesso in eccentricità senza limitazioni ZTL per esempio ma anche perché sono i loro clienti stessi che lo richiedono sempre di più ecco i clienti sono anche i protagonisti dei vostri spot abbiamo visto durante la presentazione proprio il cliente di Fiat Professional presentare il prodotto anzi accogliere finalmente è arrivato questo prodotto sì assolutamente il cliente è sempre stato al centro in Fiat Professional noi non abbiamo sviluppato veicoli per il piacere di mettere veicoli sulla strada ma per rispondere a un'esigenza di lavoro di un cliente noi in questo siamo stati dei partner dei nostri clienti e abbiamo sempre sviluppato i nostri prodotti in collaborazione con dei clienti dei clienti che siano dei professionisti o anche chi ascoltando le necessità esatto esatto e per esempio il Ducato è stato sviluppato con tantissimi clienti in particolare di HL ma questo è per il mondo business ma anche per il mondo diciamo del leisure recreazionale il Ducato è stato creato con i grandi operatori del mondo dei camper quindi ogni volta noi ascoltiamo il cliente lo mettiamo al centro quando sviluppiamo un nuovo prodotto è tornato Ulisse un nome glorioso nella storia del marchio Fiat ricordiamo monovolume adesso adattato invece a veicolo commerciale una linea moderna, accattivante, grintosa può servire come shuttle tra non so la stazione e l'albergo l'aeroporto e l'albergo il trasporto proprio per distanze non eccezionali rispetto al primo Ulisse all'epoca quando fu lanciato veramente era un mercato molto sostenuto per un utilizzo privato le famiglie utilizzavano un monovolume di questo segmento ormai il mercato è cambiato noi abbiamo deciso di lanciarlo solo in versione elettrica tra l'altro con due batterie una che procura 230 km di autonomia un'altra da 330 km e giustamente per un utilizzo di questo tipo i shuttle dall'aeroporto all'hotel dal centro congressi alla stazione veramente in un ambiente di lusso, di comfort per chi vuole offrire ai suoi clienti il massimo comfort tenendo presente il marchio fiat dopo la 500 nuova 500 elettrica Ulisse e Ulisse anzi è il secondo modello tutto elettrico del brand fiat assolutamente fiat ha intrapreso un percorso di elettrificazione questo è il secondo veicolo full electric e la marca fiat vedrà entro il 2027 l'intera gamma 100% elettrificata abbiamo parlato di Sevelle Nord dove nascono i Ulisse e i Scudo guardiamo anche Sevelle Italia sud a testa provincia di Chieti dove nasce dove anzi ha fatto tutto il percorso tutta la sua carriera il mitico Ducato ecco Sevelle Italia a testa è il più importante grande stabilimento di veicoli commerciali europei allora Sevelle è e rimarrà al centro della nostra strategia produttiva sui veicoli commerciali Sevelle produce ciò che chiamiamo la piattaforma X250 quindi declinata in Ducato jumper, boxer e movano oggi Sevelle è sempre stato lo stabilimento diciamo che non ha mai conosciuto fermi lavorando a parte qualche settimana durante la prima fase della pandemia lavorando tanto ma noi avevamo anche una capacità per vendere più di quanto Sevelle ci produceva e quindi come è già stato annunciato ci sarà un secondo stabilimento per completare Sevelle e onde avere una produzione in linea con la domanda ma Sevelle è e rimane al centro della nostra strategia produttiva di El Civino Peccato la crisi dei semiconduttori e la mancanza di Cip che ha messo a dura prova anche Sevelle ha messo a prova tutti i costruttori purtroppo quest'anno continuerà ancora un po' la crisi vediamo cosa ci sarà come riusciremo a uscire nel futuro Sevelle comunque ha avuto una grande capacità di adattabilità e dà il meglio di quello che può al momento per soddisfare le nostre richieste di tanto volume da consegnare ai nostri clienti responsabile dell'Europa allargata quindi quali sono i paesi di cui Eric Lafor si occupa oltre a quelli principali che tutti conosciamo Enlarge Europe vuol dire l'Europa 29 come la chiamiamo più Eurasia quindi ma principalmente è la parte occidentale dell'Europa in termini di volume la parte più significativa I vostri vicoli sono chiesti anche negli altri paesi non quelli principali più conosciuti Sì sì andiamo dal Portogallo fino a la Svezia e nell'est dell'Europa fino ai confini Ancora di più adesso con la lettera E Ancora con la lettera E su Ulisse no abbiamo scelto in un primo tempo di focalizzarci su alcuni paesi occidentali mentre con il scudo andiamo laddove i clienti hanno bisogno di noi con una proporzione elettrica Grazie a Eric Laforge Grazie